Non credo che si possa considerare il popolarismo come una categoria filosofico-dottrinale. Il popolarismo è un'esperienza politica che ha il suo momento forte e intenso nel primo dopoguerra, ad opera di Luigi Sturzo, che però ha dei precedenti culturali significativi all'inizio del secolo nell'esperienza democratico-cristiana del primo novecento e in particolare nel pensiero, nel magistero di Romano Murri, dal quale non si può prescindere, e che poi ha un seguito e uno sviluppo successivo, dopo l'avvento del fascismo e dopo il fallimento in qualche misura dell'esperienza popolare, nella riflessione degli esuli. La riflessione degli esuli, dei popolari, che durante il fascismo hanno vissuto la triste esperienza dell'esilio, il primo fra tutti proprio Luigi Sturzo, il suo lungo esilio, più di vent'anni, fra Londra, Gran Bretagna e Stati Uniti. E' un'esperienza che ha arricchito il popolarismo sul piano culturale, ha dato tutto il suo spessore, pensiamo alle grandi opere di Sturzo, soprattutto l'opera Chiesa e Stato, la sua riflessione sul tema del rapporto fra democrazia e riforma religiosa, eccetera. Quindi ecco, dobbiamo distinguere un momento culturale dal momento più intensamente politico del popolarismo, che si colloca nel primo dopoguerra. Rispetto al cattolicesimo democratico e rispetto al cattolicesimo sociale, il discorso anche lì è abbastanza complesso, perché il cattolicesimo democratico non si identifica con il cattolicesimo sociale, va molto al di là dell'esperienza cattolico sociale. L'esperienza cattolico sociale nasce nel quadro, nell'ambito del movimento intransigente cattolico dell'Ottocento, come esigenza di far fronte agli effetti dell'industrializzazione, agli effetti del... far fronte alla questione sociale che si pone drammaticamente, vero, nell'Ottocento. La rerum novarum di Leone XIII è il documento pontificio che in qualche modo riassume le esigenze del impegno dei cattolici sul piano sociale. Ma il cattolicismo sociale per sé non è affermazione di una posizione democratica, compiutamente democratica, democratica sul piano politico. Tanto che nell'ultimo documento di Leone XIII la democrazia cristiana è definita azio benefica in populum, azione benefica a favore del popolo. Ossia nel cattolicesimo sociale c'è questo elemento che si ritrova anche nell'opera di Toniolo, molto esplicitamente formulato, un impegno a favore di, un impegno che in qualche modo scende dall'alto e non mobilitazione popolare per la conquista di nuovi spazi, di nuove posizioni sul piano politico. Questo passaggio dal cattolicesimo sociale al cattolicesimo democratico avviene tra l'Ottocento e il Novecento, ma è una storia molto complessa che poi è una storia di carattere europeo, ha la sua versione italiana ma ha la sua versione europea, la sua versione francese. E questo passaggio avviene attraverso contrasti, attraverso dibatti, di polemiche, attraverso anche incomprensioni nei confronti della Chiesa da parte dell'autorità ecclesiastica. In Francia il movimento degli abbè democrat, i cosiddetti sacerdoti democratici, noi abbè democrat, formula la proposizione pur le peuple e par le peuple, per il popolo e attraverso il popolo, proprio per indicare questo momento di partecipazione, di coinvolgimento popolare e non solo di azione a favore del popolo. In Italia questo passaggio avviene nella democrazia cristiana, nella lezione murriana e si manifesta poi compiutamente nella riflessione di Sturzo, il discorso di Caltaggeroni del 1905 e poi soprattutto nell'esperienza del popolarismo sturziano del primo dopoguerra, quando appunto si arriva addirittura alla idea che non è possibile questa partecipazione popolare, questa conquista democratica e quindi questo coinvolgimento attivo del popolo nella vita politica, se non attraverso la forma del partito politico. L'intuizione del partito come strumento per questo passaggio è molto importante. Dietro, sullo sfondo storico di tutta questa vicenda, non si può dimenticare un altro fenomeno, un grande fenomeno storico ottocentesco che ha radici nell'Ottocento, addirittura nei primi decenni dell'Ottocento, nella Francia post-rivoluzionaria, nella Francia della restaurazione, nella figura così complessa e tormentata di Felicité dell'Amné, fondatore in qualche modo della democrazia cristiana, non si può dimenticare l'esperienza del cattolicesimo liberale, non si può evidentemente affermare il principio della partecipazione popolare alla vita politica come condizione di cambiamento sociale, di cambiamento della società, se non si riconosce il valore della libertà. Senza l'affermazione del valore della libertà non è possibile concepire la democrazia. Quindi la sfida al cattolicesimo è duplice e si intreccia. La sfida rappresentata al confronto con la democrazia si intreccia lungo tutto l'arco di questa vicenda storica così ricca, così affascinante, si intreccia con la sfida che viene alla Chiesa e al cattolicesimo dal problema della libertà, il valore della libertà, la libertà di coscienza. Non dimentichiamo che la libertà di coscienza era stata condannata solennemente da Pio IX, il famoso documento in sillabo del 1864 che è stato rievocato in occasione della beatificazione di Pio IX in anni recenti. E lì c'è una condanna precisa. La prima condanna è addirittura del 1831 ed è la condanna di Lamnè, nel momento in cui Lamnè formula l'ipotesi che la Chiesa debba ormai svincolarsi dalla protezione dei potenti, dei sovrani, che la garanzia per il cattolicesimo, per il cristianesimo nella società non sia più offerta dalla protezione del sovrano cattolico, ma viceversa la garanzia viene dal popolo, il popolo è la libertà. La sfida è grande, è dall'intreccio di questa riflessione che si sviluppa sul valore della democrazia, sul valore della libertà, che ha origine il movimento cattolico-democratico della sua interezza, che non si può dissociare dal cattolicesimo liberale. Quando di recente si è tentato di staccare in qualche modo il cattolicesimo liberale, far diventare il cattolicesimo liberale la premessa di posizioni oggi liberali-liberiste, c'è stato questo tentativo, utilizzare questa tradizione per fini di conservazione. No, in questo filone di pensiero questi fenomeni sono tutti strettamente intrecciati. Allora, rivediamo adesso alcuni passaggi più significativi, più importanti. Sturzo, nel 1905, come diceva in questo famoso discorso di Cattolgerone, formula l'esigenza del partito e fa un passo avanti rispetto alla concezione murriana perché intuisce già la dimensione non confessionale, non strettamente confessionale. L'ispirazione è cristiana della sua iniziativa e della sua azione, l'ispirazione è cristiana, ma l'espressione sul piano organizzativo non può che essere laica, appartenere cioè al laicato, al laicato nel senso dei credenti, dei cattolici, ma non in quanto legati alla gerarchia, in qualche modo obbedienti alla gerarchia, in quanto laici, in quanto cittadini inseriti nella dinamica della società con tutti i suoi problemi. Quindi abbiamo questa accentuazione, isturzo, della distinzione che invece verso il murri rimane, soprattutto in alcuni momenti dell'esperienza murriana, rimane confusa, anche perché poi il murri viene in qualche modo assorbito dal dramma della crisi modernista e finisce poco dopo, ovvero fuori della Chiesa, dopo la condanna e poi approderà a posizioni di tipo idealistico e per un certo tratto addirittura vicine poi a posizioni gentiliane, fino a nazionaliste, fino a nazionaliste. Questa è la prima intuizione. Secondo momento il programma del Partito Popolare e il famoso appello ai liberi forti, diremato qui a Roma dall'hotel Santa Chiara nel gennaio del 1919, che rimane un punto di riferimento anche culturalmente molto alto, perché? Perché nell'appello ai liberi forti e poi in tutto il programma del Partito Popolare, la famosa questione romana, quella che avrà tenuto i cattolici fuori dalla vita pubblica per effetto del non expedite, del divieto fatto della Chiesa di partecipare alle elezioni politiche, viene affrontata non più nei termini di una rivendicazione temporalistica, ossia nel senso dei diritti della Chiesa, ma viene affrontato nel quadro di una nuova concezione dello Stato. Lo Stato, nella concezione di Sturzo, non è più l'unica espressione giuridica istituzionale della società. L'intuizione è di un'importanza fondamentale, perché è quella che poi ritroviamo nella Costituzione Repubblicana, quando nell'articolo 7 si legge lo Stato e la Chiesa sono ciascuno nel proprio ordine indipendente e sovrani, al fondo di questa affermazione, che è formulata in termini giuridici, ma qual è il significato profondo? Il significato profondo è che lo Stato non è l'unica espressione istituzionale di tutta la complessità della vita sociale, la vita sociale può avere diverse espressioni istituzionali e una di queste espressioni istituzionali è rappresentata dall'esistenza dell'istituzione ecclesiastica. Quindi abbiamo il superamento della concezione liberale cavuriana, libera Chiesa e libero Stato, dove il problema della libertà religiosa era un problema della libertà di coscienza, della coscienza individuale. Nella intuizione stursiana c'è un problema di libertà istituzionale della Chiesa. Ecco, è in questo quadro di una concezione nuova dello Stato, che è quella che poi dà spazio alle autonomie locali. Non a caso nel programma stursiano hanno grande rilievo le autonomie locali, la rivendicazione delle autonomie locali, le autonomie comunali eccetera. Nel programma di Sturzo c'è poi una risposta al tipo di sviluppo sociale che l'Italia ha avuto nel periodo anteriore alla guerra, nel cosiddetto periodo giolittiano. Grazie.